Questa sera siamo alla convention di 24 Finance, stiamo conoscendo gli area manager, abbiamo qui con noi Cristian Busto, area manager della Sicilia, una parte dell'Italia che sta crescendo, sta performando sempre di più, specializzati prevalentemente sui mutui, quest'anno è andata bene, il prossimo cosa prevedi? Andrà ancora meglio, assolutamente, prevediamo l'inserimento di almeno 8 sbara 10 persone per un erogato che superi nettamente 10 milioni di Euro. Cos'è che ti dà fiducia per il prossimo anno rispetto all'organizzazione che si è andata a delineare oggi, nuovi accordi, nuovi partner? Sicuramente i nuovi accordi, nuovi partner sono importantissimi per il nostro settore, la fiducia me la dà in primis la figura del nostro presidente Rino Moscariello che è una persona che conosco da tanti anni e sicuramente la sua persona, le sue capacità imprenditoriali fanno sì che il futuro sia piuttosto arroseo. Accordi con tanti gruppi immobiliari, tu che lavori con i mutui, insomma è una parte fondamentale, che ne pensi? Cosa speri anche per il futuro? Spero che gli accordi crescono sempre di più, assolutamente, lavorando la mia specializzazione nel settore mutui, quindi l'accordo immobiliare è assolutamente vantaggioso sia per me che per il mio gruppo di lavoro e speriamo sempre più in una crescita esponenziale della società e di questi accordi. Benissimo, allora in bocca al lupo e alla prossima. Ciao, grazie.